Arriva in provincia di Teramo Star Time, il primo evento dedicato all'ecosistema start-up. Un'iniziativa a Star Time del Polo ICT Abruzzo, diretto e rappresentato dal professor Giuseppe Cappiello, che attraverso la fondazione Mirror organizza Star Time. Su Teramo il Polo ha coinvolto come partner dell'organizzazione, The Lab, agenzia di progettazione e sviluppo di imprese, e TSEED, che è l'incubatore che ospiterà l'iniziativa. Parteciperanno gli start-up, ovvero coloro che intendono avviare una nuova attività imprenditoriale, quindi hanno già l'idea e dall'idea apprenderanno, durante questi due giorni dedicati, tutte quelle nozioni e tutti quegli strumenti necessari per fare imprese e quindi creare una start-up. Le migliori idee innovative abruzzesi saranno protagoniste lunedì 24 e martedì 25 novembre. Il SID è l'imprimo incubatore che sta per nascere, quindi tra i primi mesi del 2015, la struttura ormai è pronta e stiamo aspettando un attimino alcuni documenti, quindi la parte burocratica per aprire. La partecipazione è tantissima, arrivano tantissime idee, arrivano tantissime idee dall'Abruzzo, dalla provincia di Teramo, ma è chiaro che una struttura del genere, come TSEED, che sono mille metri quadri di struttura, tre ettari di terreno, è un collegio a tutti gli effetti americano, perché daremo anche la possibilità di mangiare e di dormire, e quindi dobbiamo spaziare un attimino a livello nazionale. Questo viene fatto apposta per cercare di aiutare un sogno di un giovane, quindi da un'idea, trasformarlo in un'impresa. Grazie.